un caro saluto alle amiche e agli amici del forum tunizza le popo straugliani stravo istarta un grazie a neven e arena per aver organizzato il forum tunizza online grazie anche per avermi invitata a partecipare ho seguito con molto interesse i contributi gli interventi che sono apparsi in questi giorni e che arrivano da milano trieste lubiana fiume zara e che di fatto hanno dato il via al forum tunizza 2020 molti festival come il nostro sono stati cancellati o rimandati ad atta da destinarsi molti eventi culturali sono stati cancellati anche nel mondo della cultura c'è molta incertezza e si stanno ponendo dei dubbi veramente cruciali su moltissime questioni a cominciare dal libro dal futuro del libro dai libri appena usciti dai libri che usciranno ogni giorno si sentono arrivare appelli da parte di editori spesso piccoli e medi o da parte di librai indipendenti allo stesso tempo però le persone non sono rimaste ferme ma si sono mosse si in moto e ho visto nascere progetti progettualità che spesso sono frutto di sinergie collaborazioni spontanee o inedite o indipendenti non è la prima volta che le società le comunità sono colpite da un evento come quello scatenato dal coronavirus nel nostro caso però c'è un elemento inedito che rappresentato dalla rete la rete ha per esempio permesso il mantenimento di alcuni servizi fondamentali come l'istruzione pubblica la rete ci permette di proseguire con alcuni dei nostri progetti è molto importante in questo momento rimanere connessi rimanere uniti e solidali questo certamente per uscire dallo stato di isolamento in cui ci troviamo ma anche perché attraverso la rete sta diventando possibile creare degli spazi nuovi in cui poter ripensare a molte forme del fare e dell'agire dell'incontrarsi e del fare anche cultura essere connessi non significa solo essere connessi alla rete ma stare in rete stare in una rete fare rete e questo credo possa significare anche creare degli spazi alternativi degli spazi inediti dove poter sperimentare anche delle nuove forme dei nuovi linguaggi ma anche dove poter creare forse dei nuovi contatti delle nuove intersezioni e magari arrivare là dove fino a poco prima non si riusciva ad arrivare perciò con la possibilità anche di una maggiore inclusione. Ancora un grazie dunque alle organizzatrici e agli organizzatori del forum di communist online perché in fondo ci danno la possibilità di ritrovarci anche quest'anno e perché allo stesso tempo ci offrono una chance di pensare sperimentare immaginare delle forme che possono essere alternative delle forme del pensiero, del pensare, del fare e dell'agire. Per l'edizione 2020 del forum Tomizza ho pensato di leggere l'incipit di un mio nuovo lavoro, un lavoro che si sta definendo, un lavoro che perciò è ancora provvisorio, anche se preferisco vederlo come un work in progress, un lavoro che si definirà nel tempo, nei prossimi mesi e che deve fare i conti ogni giorno con moltissime incertezze. Ho deciso di leggere questo perché forse il lavoro che adesso meglio rappresenta il mio stato d'animo e il mio modo di vivere anche questo periodo. Il romanzo si intitola Un altro anno di scuola, capitolo 1. Quando Lisa gli andò ad aprire la porta, Max era fermo sul pianerottolo con la borsa a tracolla e le mani sudate. Era rimasto a osservare un paio di nuove scrostature nel legno e i fiori di San Giovanni appesi al chiodo. Iperico, barba di capra, felce e margherita, come recitava sua nonna, per propiziarsi la benedizione del santo per tutto l'anno. Dopo aver guardato forse per la prima volta così bene la porta di casa sua, si era imposto di riguardarla, facendosi scivolare di dosso ogni emozione. Si trattava di guardare basta, forse memorizzare dei dettagli, dimenticarne altri, poi smaltire e digerire. Anche il fatto di avere il grosso mazzo di chiave in tasca, eppure di dover suonare. Lisa gli apparve nella sua tipica maestosa tensione da grande giornata. Sembrava pronta per affacciarsi su una vita migliore più che per venirgli ad aprire la porta e andare a un collegio docenti. Era il primo giorno di scuola, che poi per loro era sempre il primo giorno di tutto. Ma era anche la prima volta, e questa era la seconda novità della giornata, che Max non si sentiva pronta. Quello era sempre stato il vero capodanno nel loro calendario privato e di famiglia. Erano naturalmente sintonizzati sull'anno scolastico, dal primo settembre al 30 giugno. L'altro, quello dei 365 giorni dei comuni mortali, era di secondo ordine. Il fatto di andare tutti a scuola, enfatizzava le cose in un modo diverso che nelle altre famiglie. Non c'era mese se non settembre, più carico di festività e ricorrenze. L'anno migliore, quando Max e Lisa erano andati a vivere insieme, era cominciato in settembre. Si erano sposati in settembre, per poter avere il congedo matrimoniale e saltare i primi collegi e consigli. Solo Pietro era nato in maggio, leggermente sfasato rispetto al resto, perché concepito in agosto. Nella loro famiglia la scuola iniziava prima per i genitori e poi per il loro ragazzo. Era Pietro a seguirli con un sorriso canzonatorio durante la cernita dei libri di testo ancora buoni e soprattutto fra i pliche di schede, fotocopie, prototipi di verifiche che avevano ammucchiato a giugno sul pavimento senza più curarsene, accanto a una nuova pila di libri, quelli che Max e Lisa, in un atto di amor sacro, si lasciavano per l'estate, di cui leggevano almeno la metà, perché anche loro avevano dei compiti per le vacanze. Max diceva sempre, d'estate dobbiamo ricaricarci e formarci, per questo abbiamo delle vacanze così lunghe, che che ne dicano i nostri detrattori. Formarsi vuol dire continuare a studiare, mica altro. I corsi di formazione non sono più che eventi sociali. Se non continuiamo a studiare, per noi è finita. E lui non voleva mai che fosse finita. La mattina del primo settembre i piani della routine si mettevano in moto, relineando le onde miti delle vacanze estive, il fuoricalendario, che si sarebbe concluso nella follata e respirabile aula piena di professori della prima mattina a scuola. Quel giorno esaltava sempre i loro progetti per il futuro, che viravano come una meteora verso una zona di luce, crescita personale, espansione dei limiti delle loro individualità. Per molti anni era tutto quanto avessero immaginato per loro stessi e per la loro vita in comune. Ed era davvero molto. Lisa era rimasta ferma occupando la soglia, il braccio piegato, la mano aggrappata al bordo della porta. Stava per cominciare un altro anno di scuola e loro non vivevano più insieme. Lisa aveva vinto il concorso per dirigenti, le avevano assegnato un posto alla Foscolo. Pietro dormiva da lei e avrebbe passato i primi giorni dalla nonna, dove dormiva il papà da due settimane. La sera sarebbe tornato a casa, però. Max lavorava sempre nella stessa scuola, la Slataper, ma si sentiva buttato con uno spintone in una nuova vita. Pietro era fermo a qualche passo da Lisa. «Hey, Mishka!» Max si piegò in avanti sporgendo la testa al di sotto del braccio abbronzato che sembrava sbarrargli la strada, ma che si abbassò subito. Lisa se gli fece spazio. Pietro aveva lo zaino, ciondolava muto da un piede all'altro. Li guardava. Max non lo vedeva da un giorno e già gli sembrava cresciuto, diverso come. I riccioli gli coprivano il lobo e non erano di qualche millimetro appena sopra, le palpebre spalancate dietro gli occhiali spessi che forse erano già da risistemare. Quanto bastava per farlo sentire colpevole, colpevole e fallito. Grazie. Grazie. Grazie.